Noi siamo strafelici di aver fatto un risultato così storico, credo che sia difficilissimo che si possa ripetere una cosa del genere, sotto 14-10 vincere la 23-21 contro un avversario fortissimo come il Vakif, siamo strafelici di aver fatto un doppio risultato contro due squadre turche in semifinale e in finale. Beh, grazie per i complimenti, è sempre bello tornare a casa, per me è un piacere rivedere amici e parenti. Devo dire che questa sera non sono così contento, io lo sapevo che sarebbe stato difficile tornare dopo un mondiale dispendioso e giocarsi una partita di campionato a Perugia con una squadra che ha bisogno di punti. Ho fatto una scelta importante, credo, perché mi sta a cuore la salute delle ragazze e quindi credo che questa fosse la decisione migliore. Questa sera non era facile per noi, abbiamo giocato una partita non bellissima, faticando tantissimo in attacco. Credo che ne sia uscito fuori un 3-2 che per certi aspetti ci fa male, per altri l'abbiamo ripresa perché eravamo sotto 2-1. Abbiamo anche rischiato di vincerla perché eravamo 10-8 il quinto set, quindi è un peccato davvero perché se avessimo vinto questa partita sarebbe stata una bella prova di maturità nonostante le difficoltà. Pazienza, ci rimbocchiamo le maniche, sappiamo che è un cammino difficile, lungo e quindi devo capire cosa queste ragazze che hanno giocato questa sera mi possono e ci devono dare per il proseguo del campionato. Puoi semplicemente chiedere se secondo lei esiste una scuola Umbra, tanti sono i tecnici in Serie A che vengono da questa regione? Io credo di sì, credo che ci sia stato un passato glorioso in Umbria, credo che ci siano state delle squadre che hanno fatto storia, tanti appassionati hanno seguito la palla a volo, io sono uno di quelli. Ho avuto tanti maestri, diciamo che Perugia ogni volta che incontro Massimo, ricordo i momenti in cui lui era allenatore della vecchia Perugia, la famosissima Perugia che vinceva tutto e io l'ammiravo da spettatore. Lui è stato uno dei tanti maestri per me, io ne ho tanti altri che seguo tuttora, quindi credo che se tanti allenatori Umbi sono usciti fuori probabilmente qui c'è un DNA importante e io ne ho beneficiato fortunatamente. Il passato di Perugia è un passato glorioso, ripeto, noi ci stiamo provando, siamo una società giovane, in sette anni questa società è cresciuta tantissimo ed ha vinto tantissimo, io fortunatamente ho la fortuna di poter allenare un gruppo fortissimo, la società mi ha dato questo incarico bellissimo, sto provando a lavorare con questa società giovane per provare a portare Conegliano il più in alto possibile, fino adesso abbiamo ottenuto degli ottimi risultati ma non vogliamo fermarci qui. Curiosità, ma non si gioca un po' troppo? Io credo che la risposta che ho dato questa sera sia semplice, se ho cambiato sette giocatrici è perché si gioca troppo, indubbiamente. Io credo, senza far troppa polemica, che il campionato poteva essere, secondo me, modificato. Noi abbiamo chiesto di non giocare dopo il Mondiale per Club, ci è stato detto che dovevamo giocare, è stato deciso di giocare una partita a Perugia, noi abbiamo chiesto l'inversione di campo, non ci è stata data l'inversione del campo perché ci è stato detto che sarebbe stato falsificato il campionato, noi abbiamo chiesto di giocare dopo la prima giornata di campionato, non avendo nemmeno le due americane, Kimber Hill e Chakao Bobu e quindi per le altre squadre sarebbe stato un enorme vantaggio, non ci è stato permesso, quindi credo che la risposta che ho dato questa sera sia importante.